In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro, mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Cos'ha che fare Gesù con la sua famiglia di origine? Proviamo ad analizzare brevemente attraverso i Vangeli la relazione intrigante e complessa tra Gesù, sua madre e i suoi fratelli. Partiamo allora da Nazareth. Quando Gesù esce allo scoperto e abbandonando la bottega del falegname comincia a predicare in sinagoga come i maestri, grandi maestri del tempo. Subito gli viene contestato questo inedito ruolo di profeta. Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giude, di Simone e le sue sorelle non stanno qui da noi? Cosa succede qui? Gli si ricorda la sua appartenenza al clan, alla famiglia di origine. Tutti si scandalizzano perché Gesù è uscito senza preavvisi dal ruolo prestabilito dal clan. Da parte di Gesù c'è un atto di trasgressione pubblico. Anche i suoi si scandalizzano. Lo deduciamo dalla conclusione del discorso di Gesù che cita il famoso adaso, un profeta non è disprezzato che nella sua patria tra i suoi parenti e in casa sua. Così Gesù se ne va da Nazareth. Ma passa appena un capitolo e nel Vangelo di Marco troviamo questa scena. Gesù entrò in una casa e si radunò di nuovo intorno a lui molta folla al punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano è fuori di sé. Qui la cosa diventa lampante. La famiglia di Gesù reagisce al suo successo popolare e cerca di recuperarlo prima che sia troppo tardi. La vocazione di Gesù è per loro qualcosa di estraneo. Magari lo vogliono preservare, ma Gesù non si fa agganciare in nessun modo. È così netto nei confronti della famiglia che non esita a pronunciare quelle parole così brucianti. Chi non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita non può essere mio discepolo. Così nel Vangelo di Giovanni al capitolo settimo leggiamo che i suoi stessi fratelli non credevano più in lui. Ma perché un atteggiamento di così tesa distanza? Bella risposta, l'abbiamo proprio nel Vangelo di oggi. All'ennesima invadenza affettiva dei suoi Gesù risponde, mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Gesù è uomo libero e liberante, niente lo imprigiona nella legge religiosa degli scrivi e dei farisei e nella legge naturale della madre e dei fratelli. Non che sia contro la legge di Dio o contro la famiglia, no certamente. Gesù supera entrambe per entrare in una logica spirituale, in una logica di amore che le integra. Di fatto, chi meglio della madre, di Maria, ha saputo ascoltare e vivere la parola di Dio?